Bentornati, ora vi mostrerò come aggiungere la prima clip a una clipboard. Aprite una nuova scheda o una finestra del browser e scegliete un sito web a piacere. In questo caso decido di andare su Amazon per trovare un'idea regalo. Seleziono l'ebook Kindle perché credo sia un regalo interessante. Ora clicco sul tasto clip sulla barra dei segnalibri del mio browser. Compare il pannello, seleziono un'immagine e scelgo la clipboard. Questa clipboard, idea regalo per la famiglia, è visibile solo a me ma va bene così perché non voglio che gli altri la vedano. Ora clippo ed ecco fatto. Perfetto, ora torno su ClipX e ho la mia prima clip. È tutto qui.